Appresso il Via Bruxelles la 22esima settimana europea delle regioni e delle città. Tanti temi che saranno trattati, introdotti peraltro ieri dal Presidente della Commissione Europea delle Regioni Vasco Alves Cordero. Ma a tenere banco in queste ore la questione evidenziata nel suo intervento, la cerimonia d'apertura, dal Presidente dei Conservatori e Riformisti Europei, nonché Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, su una politica di coesione nel complesso processo di transizione ecologica. Una transizione giusta che garantisca fondi strutturali specie in un settore delicato come quello dell'automotive. La proposta delle CR sarà votata nel pomeriggio. Chiaro che obiettivi ambiziosi e sfidanti devono far fronte risorse importanti. Se le regioni e i territori vengono lasciati soli, se l'industria viene abbandonata al suo destino e non viene accompagnata in questo processo, il rischio è quello della desertificazione industriale. Peraltro con poco beneficio complessivo perché l'Europa è una piccola cosa. Solo l'8% delle emissioni inquinanti, clima alteranti di CO2 vengono prodotte in Europa. Gli altri stati, le altre grandi aggregazioni continentali o subcontinentali, la Cina, il Nord America, il Sud America, l'India, non hanno questi obiettivi, non se li pongono e anzi continuano ad aprire miniere di carbone e a utilizzare pienamente i combustibili fossili. Questo crea uno svantaggio competitivo per l'industria europea e il rischio che rischiamo di pagarne già presto, le conseguenze alla crisi del settore dell'automotive e delle nostre fabbriche sotto gli occhi di tutti. Siamo ancora in tempo per intervenire, per correggere la rotta di questo percorso o incrementando i sussidi e gli incentivi e nello stesso tempo cambiando anche approccio, un approccio più pragmatico e meno ideologico. Anche il rapporto di Mario Draghi insiste sulla resilienza e sul tema della competitività. dice chiaramente che non si possono raggiungere obiettivi climatici e ambientali a discapito del benessere sociale perché altrimenti produrremmo un disastro e all'interno del nostro parere vengono raccolte queste suggestioni, viene reinserito il tema della neutralità tecnologica. Chi lo ha detto che la liberazione dalla dipendenza dei carburanti fossili passi solo attraverso l'elettrico e le macchine alimentate a batteria. Ci sono altri carburanti come i biocarburanti, i carburanti sintetici, l'idrogeno che possono raggiungere lo stesso obiettivo e che magari sono anche più compatibili con la filiera industriale nazionale ed europea. Conclusione Presidente, questa sera è un accordo importante con una regione e se vogliamo anche un po' gemella rispetto all'Abruzzo, regione dei Carpazzi in Polonia. Oggi firmeremo un accordo a seguito anche di un loro viaggio. Sono stati i nostri ospiti, hanno preso contatto con il nostro territorio. Noi abbiamo fatto altrettanto con il nostro assessorato alle attività produttive. Oggi formalizziamo un protocollo d'intesa, un accordo di cooperazione e di collaborazione. è una regione molto vocata all'industria manifatturiera, all'aerospazio e all'alta tecnologia. Sono caratteristiche simili a quelle dell'Abruzzo. Pensiamo che le nostre attività industriali e di ricerca possano fare sinergia, possano mettersi insieme per creare nuove opportunità di crescita reciproca. Grazie. 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 Grazie.